cari amici ben trovati buona domenica ci ritroviamo ancora a meditare la parola di dio a lasciare che sia il signore a riempire il nostro cuore con la sua parola mentre ci ritroviamo a celebrare l'eocarestia nelle nostre comunità di appartenenza oggi abbiamo un vangelo molto ricco che riecheggia anche nella prima e nella seconda lettura potremmo dire che come prima impressione il tema sia quello della preghiera e in effetti è così la storia la vicenda di questa vedova importuna che vuole giustizia e si rivolge con insistenza anzi con eccessiva insistenza al giudice menefreghista e disonesto è un modo che gesù ha di dire che il padre si occupa dei suoi figli che dio ascolta la preghiera di questi tempi è difficile parlare di preghiera perché è un po come se la nostra contemporaneità avesse un po smarrito il senso della preghiera meglio tutti noi abbiamo l'idea che la preghiera sia chiedere qualcosa a dio imparare delle formule ed è in effetti un po vero questo ma la preghiera è qualcosa di molto più profondo di molto più ricco è una dimensione interiore in cui meditando la parola mettendo in gioco la mia vita e mettendola alla luce della parola di dio io interagisco con dio parlo con lui e ascolto lui e io parlo a lui devo dire con verità come ho scritto spesso e ho detto spesso che nella mia vita personale la preghiera ha rappresentato e rappresenta un momento fondamentale io non prego tanto un po sono pigro in po non è il mio stile però la fortuna di avere a che fare molto con la parola di dio usandola un po anche per mantenermi con il mio lavoro scrivendo articoli scrivendo libri commentando la parola su internet e questo mi dà la possibilità di leggere continuamente la parola di dio alla luce della mia vita e la mia vita alla luce della parola di dio la preghiera allora è un colloquio particolare e penso che sia tanto più indispensabile quanto più oggi è difficile essere credenti un po il tema che ci sta accompagnando se ricordate da questa scorsa primavera il tempo che viviamo un tempo difficile come ci ha ricordato papa benedetto anzi lui giunge a dire che è il peggior momento che la chiesa sta vivendo dal tempo delle persecuzioni vuoi per il diffuso e feroce clima anticristiano che sta crescendo anche un po in europa ma anche e soprattutto a causa di noi cristiani per la nostra incoerenza la nostra incostanza come dire il vivere una fede sempre più piatta sempre più superficiale sempre più superstiziosa la preghiera allora come luogo in cui incontrare la presenza di dio diventa lo strumento la cura una preghiera che attenta al quotidiano attenta la realtà sappia mettersi in confronto con la parola di dio per convertirsi può essere la strada che porterà la nostra chiesa sostenuta dallo spirito fuori da questo momento così difficile non bisogna stancarsi dice gesù bisogna essere costante e appunto cita questa parabola particolare un giudice disinteressato di dio che non ha riguardo di alcuno dice l'evangelista luca ma anche una vedova che va da lui a chiedere giustizia notate qui non si dice che la vedova avesse ragione magari era una signora un po fanatica che ce l'aveva coi vicini il cuore della parabola non è che dio interviene prontamente per risolvere i nostri guai il cuore della parabola è che questa donna è così insistente che alla fine il giudice pur di levarsela dai piedi affronta la sua situazione dio non è uno che sta alla finestra e risolve i nostri problemi perché preghiamo tanto ma conclude gesù avete sentito dio non farà forse giustizia ai suoi eletti che gridano giorno e notte verso di lui li farà aspettare a lungo gesù da quasi per scontato il fatto che il signore ci ascolta gesù da per scontato il fatto che così come il giudice si stufa dalla insistenza della vedova importuna e anche un po rompiscatole così anche darà ascolto a noi eppure credo sia esperienza di molti io parlo di me io ho pregato molto nella mia vita ho chiesto anche cose però a essere sincero il signore non ha mai esaudito ciò che gli ho chiesto non ha mai fatto ciò che gli ho chiesto eppure guardandomi indietro devo dire che il signore ha realizzato ogni cosa che desideravo nel profondo mi ha aiutato a crescere mi ha aiutato a confrontarmi con lui ecco noi non preghiamo per convertire dio ma per convertire noi noi non preghiamo per convincere dio della bontà delle nostre richieste ma per capire noi cosa è buono per noi rispetto a dio è un problema che già si ponevano i primi cristiani anche i primi padri della chiesa penso a sant'agostino che in sua riflessione mirabile dice se dio non ascolta la tua preghiera è perché forse non preghi a sufficienza con insistenza o perché ciò che chiedi non è il tuo bene o forse dio ti sta facendo aspettare perché cresca in te il desiderio ma l'evangelista luca su questo è molto attento un po lui come dire l'evangelista della preghiera luca aggiunge un particolare importante e cioè che la preghiera deve essere rivolta a un padre quante volte invece la nostra preghiera è rivolta a un despota come al politico potente da corrompere da convincere in questa nostra italietta maldestra è sempre più impoverita piena di malcostume è normale farsi raccomandare anche per avere solo una lastra all'ospedale ecco alla volte noi proiettiamo questa logica adosso dio dire ma come signore tu sai benissimo che questo è il mio bene perché non lo realizzi cerchiamo di convincerlo in realtà la vita è resta mistero il vangelo ci propone il signore ci propone questa attenzione da una parte la fiducia assoluta perché ci rivolgiamo un padre un padre che sa di cosa abbiamo bisogno dall'altra fuggire l'idea che dio intervenga puntualmente per risolvere tutti i nostri problemi perché a volte affrontare un problema ci aiuta veramente a capire cosa è la vita ecco allora che gesù ci invita a pregare a pregare con insistenza a pregare quotidianamente io dico sempre cinque minuti al giorno sono sufficienti per aprire il tombino sotto i nostri piedi vedere che sotto i nostri piedi ce l'oceano e nello stesso tempo il signore ci dice stai attento a non delegare a dio non è che dio è al tuo servizio che aspetta solo di fare ciò che tu ritieni per te essere importante nella vita ma e concludo questa parabola finisce con una domanda che forse la più inquietante di tutto il vangelo è come se gesù avesse avesse messo le carte in tavola parlando a nome di dio dicendo guardate il padre fa così questa è la logica di dio padre ma conclude gesù il figlio dell'uomo quando verrà troverà la fede sulla terra come se gesù preoccupato e ha di che guardandoci intorno si chiedesse se questo slancio di generosità da parte di dio che ha mandato suo figlio questo suo modo di coinvolgersi abbia una risposta adeguata da parte di noi uomini troverà ancora la fede sulla terra notate gesù non ha detto troverà ancora l'organizzazione della chiesa cattolica i dicasteri vaticani il circolo degli oratori della lombardia quel movimento quell'associazione gesù non ha detto troverà ancora le parrocchie ma troverà la fede allora certo i circoli gli oratori i movimenti le parrocchie di castelli sono funzionali alla fede la fede è questo atteggiamento di fiducia di abbandono che è esattamente ciò che rischia di essere messo in crisi dal confronto con la modernità non abbiamo più molte certezze invece il signore ci chiede di di metterci in gioco e la fede è fiducia la fede non è un calcolo matematico la fede che un certo punto proprio davanti al disgregarsi dei tempi alla fasia della chiesa in certi momenti che non sa più dire gesù cristo siamo invitati a non cedere a non mollare queste settimane ricevo molte mail di persone scoraggiate che dicono ma ma vale la pena guarda quello che è successo con i preti pedofili guarda la mia parrocchia che disastro guarda questo prete che brutta testimonianza che da guarda qui guarda lì e dico ma vale la pena io rispondo ma certo che vale la pena la chiesa di gesù cristo questa inadeguata una sposa infedele molto spesso ma è sua siamo suoi allora vi invito dopo la riflessione sulla preghiera a interrogarci a dirci ma signore quando tornerai ci sarà ancora fede sulla terra invito tutti voi quando sarete in chiesa in questi giorni a dire signore guarda non so gli altri ma quando tornerai una piccola fede ci sarà ancora della mia signore se tu non ci fossi cosa sarei io se non avessi incontrato il vangelo sulla mia strada che sarebbe di me c'è ancora la fede amici quella che io quella che tu hai quella che il signore troverà quando tornerà speriamo presto e speriamo nella gloria per tutti gli uomini buona settimana grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti.